Musica Qui a Vermezzo, Allegra Turla, lei monta a Rapallo? Sì Ci racconti come hai iniziato? A montare? Sì Allora, ero indecisa su che sport fare perché ho sempre amato gli animali e quindi l'equitazione da subito mi ha colpita come sport e poi mia nonna mi ha indirizzato verso questo mondo e ho conosciuto questo maneggio, cioè lo scuola a Rapallo ho incominciato a fare una lezione con la scuola e mi sono trovata subito bene E ti ha portato in questi ultimi anni a vincere parecchie Sì, abbastanza Dimmi che è la gara più importante a cui hai partecipato La gara più importante a cui ho partecipato è stata Fiera Cavalli Verona per due anni consecutivi E com'è andata? Il primo anno non è andata molto bene Il secondo invece meglio Ho avuto un po' di sfortuna nella seconda manche però bene Monti con Hector Var Sì Lui è un bravissimo istruttore Il migliore Anche perché qui vicino non puoi dire altro Bravissimo Cosa ti fa fare? Su che lavori lui insiste? Lui è molto bravo ad insegnare saltostacoli e mi dà molta grinta Però mi tranquillizza anche in gara Molto bravo Sei fresca di primo grado? Sì Che cavallo monti? Monto una baglia tedesca del 2002 e si chiama Caipirigna Com'è? Da spingere? Cavallo a spingere? È giusta Se va piano Appena metto un po' di gambe va subito Ma poi se va veloce riesco anche abbastanza a tenerla Quindi è giusta Ieri il primo giorno come è andata a 15? Che hai fatto? Ieri bene Ho fatto zero e sono arrivata terza su 45 partenti Bene complimenti Ci vedremo spesso allora Sì spero di sì Ciao Ciao Ciao